Certo che questo investimento mediatico ha pesato molto, ha pesato tantissimo nell'ambiente, ha pesato molto nelle ragazze che si sono rinchiusa ad esio in se stesse e hanno cercato comunque di venirne fuori e devo dire che adesso stanno rivolando. Dopo lo scandalo che ha travolto la ginnastica ritmica italiana le farfalle sono pronte a volare alto ne è sicura Marcella Bonus docente psicologa dello sport piemontese ma trevigiana d'adozione chiamata ad affiancare le ragazze proprio dopo la bufera scoppiata all'indomani delle rivelazioni sui metodi di allenamento cui sarebbero state sottoposte le ragazze costrette a pesanti sacrifici nel nome di un risultato sportivo. Io penso che questo le abbia anche rese più forti, più consapevole, anche più attente molte volte perché i media, i social è qualcosa da dover utilizzare bene. Non solo le nuove tecnologie ma anche social e media stanno avendo, spiega Bonus, un impatto sempre più importante nella vita e nella storia degli atleti. Bisogna stare attenti, bisogna capire che la sconfitta fa parte del percorso di crescita di qualsiasi essere umano e ancora di più dell'atleta. Bonus era a Roma per gli europei, sarà a Parigi tra pochi giorni accanto ai grandi dell'atletica e della ginnastica ritmica ma il suo primo messaggio è per i futuri atleti, quelli che verranno. Anche nello sport giovanile vediamo quanti genitori comunque si aspettano dai propri figli l'eccellenza, invece noi dobbiamo capire che il processo di crescita è un processo e quindi necessita dell'arte della costanza, necessita dell'arte della resilienza, un talento che deve essere più mentale ancora che fisico perché il processo è lungo.